ciao a tutti spero che siate bene e allora in questo video volevo farvi vedere come ho realizzato il mio porta anelli utilizzando tutti i materiali di riciclo e senza avere troppi materiali da utilizzare ok come vedete sono quei quattro lì e poi ovviamente la materia prima che sono gli anelli allora come avevo già detto per il video dove ho fatto vedere come ho fatto il mio porta orecchini io purtroppo avevo già fatto tutto però non ho nessun problema a farvi vedere da capo come si fa il tutto ok basta che mi scrivete un messaggino e io ve lo faccio molto volentieri allora facciamo una cosa io incomincio a togliere piano piano gli anelli e nel frattempo parlo così vi spiego allora io li ho foderati con delle pezze che avevo di stoffa removibili ok perché perché mi dà fastidio se si sporca io almeno così posso prendere le pezze e lavarle allora adesso li vedrete che sono mille pezzettini perché sono andata a prendere quelli più piccini però mi piaceva l'accostamento di colori quindi me ne sono altamente fregata che erano mille pezzettini ovviamente per non complicarvi la vita vi conviene prendere magari un pezzo unico ok un pezzo unico di stoffa per riuscire a metterlo nel mezzo e mi raccomando tenetelo lunghissimo ok perché facendogli fare tutte queste gobbette ovviamente non potete prenderlo della stessa misura riguardante alla scatolina ok deve essere ovviamente quasi il doppio penso ora non ne sono sicura però appunto voi abbondate con la lunghezza allora io tolgo tutte queste pezze allora mi chino così ve lo faccio vedere vabbè intanto volevo solo dirvi una cosa perché ho lasciato questo spazio qua per gli anelli quelli un po più grossini ok io non ne ho tantissimi perché non ne ho stati ok mi allargavano troppo il buco ed erano scomodi mi facevano sballonzolare gli altri quindi sono riuscita a fare una parte di lato per mettere quelli un po più grossi e allora quello che vi serve come leggete nel foglietto lì appeso è una scatolina delle dimensioni che volete ok quindi ovviamente più grande e più anelli vi ci stanno una stoffa se volete ricoprirlo come ho fatto io così almeno potete lavarlo potete cambiare insomma il colore siete un po più liberi e poi la colla a caldo che serve serve principalmente per riuscire a fare questi salsicciotti ok in web io ho visto che li fanno proprio più rotondi però ce ne stanno meno nel senso che tolto che devo usare più materiale ok io qua li ho fatti a tre ok vedete che l'ho rotolato tre volte se lo devo fare come lo fanno quindi devo fare tanto tanto salamino devo utilizzare più materiale non mi non mi andava tanto poi appunto avendo messo queste pezze che lo ricoprivano comunque riesce a prendere anche diventano più spessi ok allora non so se scusate mi è caduto tutto non so se ve l'ho già detto io purtroppo avevo già fatto il tutto ok ma chiedetemi se volete che io ve lo faccio vedere da capo per me non c'è nessun problema io nel frattempo ve lo spiego così allora prendete le striscioline della larghezza della scatola ok che volete quindi io per dire le ho messe in questa direzione ma se le avessi volute mettere per lungo le avrei dovute fare lunghe da qua a qua le fate cicciottelle quanto le volete io le ho piegate tre volte dell'altezza ovviamente che ci stia nella scatola e che poi ci stia anche l'anello ok non posso farle alte quanto la scatola che poi l'anello lo infilo e mi spunta fuori quindi fatele un po più basse e ne fate tante tanto quanto per riempire per riuscire poi a riempire il tutto ok e questa forse è la parte un po più lunga è anche un po più noiosa anche lì la gente tra tra di loro le incolla sulla base a me non piace nel senso che rimane troppo fisso non lo so non non mi faceva impazzire ma comunque voi potete anche incollarle potete lasciarle così anche senza mettere la pezza come avevo fatto io a me sinceramente piaceva un po di più con la pezza perché rimane anche forse un po più elegante così si vedono un pochettino le imperfezioni no mettiamola così e qua vedete che rimane dello spazio perché mettendo come dicevo la stoffa tra una strisciolina e l'altra va a imbottire un po di più quindi sono riuscita a farne sono riuscita a farne un pochettino meno perché tanto appunto volevo mettere questa stoffa poi mi sono messa questi salamini qua giusto per gli anellini quelli proprio un po più piccolini io questi anelli quali metto nelle falangi piccole nelle piccole falangi e oltretutto questo qua l'ho fatto io e poi magari dedicherò anche una parte delle cose che ho fatto a mano ma una cosa per volta se non vi incasino e niente questa è la scatola porta anelli ora volevo anche farvi vedere vedete qua ci sono tutti gli anelli volevo farvi anche vedere come mettere la stoffa ma non so con una mano se ci riesco comunque appunto dovete ritagliare la stoffa della larghezza giusta ok e poi incominciate a con una mano non ci riesco incominciate a metterla fra le striscioline ok fra le striscioline così e qua parte un pezzettino come vedete io a me non mi piace incollare quindi anche questo pezzettino qua che sempre è il feltro quello lì scusate il gestaccio non l'ho fatto apposta non l'ho incollato ma perché se casomai mi servisse più spazio qua non vorrei fare tutto comunque buttare basta che mi basta che tolgo lui e allargo questa parte principalmente quello e niente questo qua è stato il video riguardante gli anelli mi dispiace come sempre che vi sto facendo vedere le cose alla fine senza farvi vedere tutti i passaggi però appunto chiedetemi ok chiedetemi mi chiedete di farvelo vedere e io sono molto contenta di farlo e spero vi sia piaciuto cose belle cose brutte ditemele tanto fanno piacere a entrambi e sono utili entrambi e niente ciao a tutti da belle candel